Buongiorno da Treviso, prendiamo la linea in diretta dagli studi per le prime notizie dalla marca e purtroppo dobbiamo aprire con il fatto di cronaca di cui vi abbiamo anche dato notizie ieri sera nel corso del Focus ovvero la coppia di anziani asfissiata dal monossido di carbonio appunto di cui vedete le immagini girate ieri sera dalla nostra collega Lina Paronero che si è subito portata nel posto. Erano distese esanimi sul letto uno accanto all'altro lei Emilia Montagnero, 85 anni, originaria di Pola, residente con il marito all'Iro di Venezia, non ce l'ha fatta quando i Vigili del Fuoco, all'attrati dalla figlia Paola che abita lì vicino, sono arrivati nell'abitazione di via Tomaseo a Mogliano che vedete nelle immagini, non c'era più nulla da fare invece il marito, Eugenio Ravignandi, di 84 anni, era ancora vivo, ora si trova a Caffoncello, grave ma appunto vivo la tragedia è stata scoperta nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17, quando la figlia ha cercato in vano di mettersi in contatto con i genitori la coppia si recava in quell'appartamento che vedete nelle immagini, saltuariamente perché viveva a Lido di Venezia lo faceva per stare vicino appunto alla figlia che invece vive a Mogliano e forse proprio l'utilizzo non continuativo di quell'abitazione e quindi magari un mancato controllo al rimpianto di riscaldamento, alla caldaia del rimpianto di riscaldamento potrebbe essere stata la causa del decesso appunto della donna e delle gravi condizioni dell'uomo anche questa sera riprenderemo il fatto nel corso del nostro telegiornale Ancora cronaca invece ci spostiamo a Preganziol perché intorno a luna della notte appena trascorsa un uomo con un volto coperto è entrato al Royal Room di Via Bianchin e senza mostrare alcun tipo d'arma ha chiesto i soldi al gestore della sala slot, in quel momento non c'era nessuno nel locale e in pochi minuti l'uomo si è fatto dare 1000 euro per poi scomparire nella notte al vaglio dei carabinieri le immagini di video sorreglianza appunto della sala slot per capire l'esatta dinamica della rapina Adesso invece torniamo a parlare di una polemica cioè di un fatto che poi è già diciamo innescata come polemica in tutta Italia ovvero il ritiro della tessera dell'Ampi, dell'associazione partigiani della provincia di Treviso alla senatrice Laura Puppato ieri abbiamo seguito la vicenda oggi su tutti i quotidiani nazionali è stata ripresa ampiamente la situazione tutto legato alle posizioni per il referendum costituzionale allora rivediamo insieme il servizio Lei vuole fare l'azione del sì, lo faccia, ma non nomini mai l'Ampi perché se nomina l'Ampi è contro l'associazione e si mette fuori questa è la posizione limpidissima che avevano gli altri La senatrice del PD Laura Puppato da tempo iscritta come simpatizzante all'Ampi fuori dall'associazione partigiani se continuerà a sostenere il sì in vista del referendum costituzionale del 4 dicembre Alla sezione di Montebelluna si è sentita mettere in dubbio l'opportunità di continuare ad avere quella tessera vista la sua presa di posizione così lei ne ha richiesta un'altra a Crespano del Grappa ma il presidente Lorenzoni non ha dubbi o si autosospende di sua iniziativa o non può freggiarsi di quella tessera è stata chiara la posizione nazionale dell'Ampi con la delibera del 24 maggio il quale dice liberi tutti, non si caccia nessuno non c'è nessuno, non si nega la tessera a nessuno però ad un certo punto se uno è tesserato con l'Ampi deve appoggiare la posizione dell'Ampi o star zitto, non può fare azioni contrarie perché se fanno azioni contrarie non siamo noi che li espegliamo ci sono loro che si mettono fuori dall'associazione il clima che si respira oggi in Ampi è molto triste è il commento della senatrice Dem che annuncia ricorso ai propri viri sono iscritte a Ampi da molti anni ma oggi vedo che non è importante il valore delle persone la loro storia, il loro impegno per la democrazia bensì essere o meno al governo del paese come se stare a fianco di casa Pound potesse essere accettabile solo per condividere un no che sa di odio verso il premier Renzi così si cancella lo spirito stesso dell'Ampi l'associazione che onora chi ha combattuto per la libertà non può espellere chi è in dissenso con una parte della loro dirigenza di certo insomma questo referendum sta veramente facendo discutere nelle posizioni dell'una e dall'altra parte continuiamo invece spostandoci a Cison di Valmarino dove c'è una vera e propria guerra per le bandiere a Cison scoppia la guerra delle bandiere troppe secondo le minoranze quelle che un cittadino ha sposto all'esterno della sua abitazione bandiere della Serenissima issate assieme a cartelli contro lo Stato italiano indecroso a detta dei consiglieri comunali che hanno presentato un'interrogazione al sindaco non c'è nessuna violazione fa sapere il primo cittadino Cristina Ping che ha sottoposto il caso all'attenzione di Veneto Strade provincia e sovrintendenza ai beni paesaggistici non sto combattendo l'ideologia dice la Ping presa di mira sui social e non solo mi spiazze che anche su Facebook piuttosto che via mail mi stanno arrivando un sacco di improperi che sono del tutto gratuite perché ripeto avessi voluto fare la guerra piuttosto che farle togliere l'avrei fatto due anni fa è solo una questione di decoro perché secondo me nel stesso obiettivo sono raggiunti che non fuori una bandiera piuttosto di due e stavo guardando anche quello che è il territorio Ora il caso Cison è all'attenzione della prefettura mentre nel piccolo centro pedemontano oggi è andato anche Michele Favro del Consiglio Nazionale di Indipendenza Veneta Secondo me può essere definito come un oltraggio verso il popolo veneto perché è una cosa veramente vergognosa definire indecorose delle bandiere della Repubblica Sernissima semplicemente perché un cittadino e mi lasci dire un fradeo veneto mette delle bandiere nel suo terreno cioè ma a che punto siamo arrivati un sindaco si permette di chiamare il prefetto E domenica gli indipendentisti andranno in delegazione a Cison Domenica io credo che andremo a trovare il nostro fradeo veneto per manifestare tutto il nostro appoggio e perché giustamente noi andiamo orgogliosi della nostra bandiera Fieri ed è l'unica bandiera degna di essere messa e piantata su questa terra E adesso torniamo alla cronaca andiamo a Montebelluna per un'assicurazione non pagata Non è stata sufficiente la deviazione strategica nella stradina appena prima della postazione degli agenti della polizia locale con Targa Ieri mattina un montebellunese a bordo di una Mercedes classe A ha provato a gabbare gli agenti svoltando nella stradina a pochi metri dai vigili ma è stato ugualmente pizzicato a pochi minuti dopo in centro città E tutto perché era senza assicurazione A quel punto è scattato il sequestro è stato chiamato il caro Trezzi e la Mercedes è stata portata in deposito E adesso invece a Vedelago dove ieri c'era c'è stata veramente una corsa tra guardie e ladri Viene avvistata l'auto di una banda di ladri d'appartamento e subito scatta la caccia tra strade e campi E' accaduto ieri sera tra Estrana e Vedelago La macchina, una Seat Leon grigia era stata segnalata nei giorni scorsi come il mezzo a sospetto di ladri che da lunedì avevano sediato le abitazioni della zona I carabinieri hanno così fatto scattare un'imponente rete di controllo in strada Proprio dopo le 17 nei pressi di Estrana l'avvistamento del mezzo e il relativo inseguimento dalle strade principali e le vie secondarie I banditi hanno prima cercato la fuga verso Vedelago poi hanno fatto inversione e si sono persi nelle stradine di Carpenedo ritrovandosi davanti al passaggio a livello della ferrovia, chiuso A quel punto, sentendo le sirene avvicinarsi i ladri non hanno potuto far altro che lanciarsi in fuga nei campi abbandonando la macchina con gli arnesi e altro materiale per lo scasso A Spresiano, invece, un cittadino ha deciso di prendere la piazza principale per autodromo È successo nella serata di martedì e un trevigiano di 34 anni non ha trovato di meglio da fare che mettersi alla guida della propria automobile in stato d'ebrezza e compiere prodezze scambiando la piazza principale come una pista Immediata l'allarme ai carabinieri lanciato da alcuni cittadini che hanno visto e rischiato anche la propria incolumità fisica Il trevigiano era in stato d'ebrezza con un valore di alco pare quasi a 2 da cui la denuncia è il ritiro della patente conferma del mezzo E ci sono ancora delle novità per la famiglia Durante ancora in fondo all'oceano Los Roques Il Venezuela si mobilita per il recupero della famiglia Durante di Ponzano mamma Bruna Guarnieri papà Paolo e la piccola Emma e Sofia e di altri 4 italiani L'impegno di riportare in superficie il LED 410 della Transaven precipitato il 4 gennaio 2008 nelle acque di Los Roques è stato preso direttamente dall'ambasciatore venezuelano in Italia Julian Isias Rodriguez Diaz che mercoledì a Roma ha incontrato l'avvocato Antonio Lascala presidente nazionale di Penelope l'associazione della famiglia degli scomparsi e Romulo Guarnieri papà di Bruna Adesso invece vi vogliamo portare a Catena di Villorba una delle frazioni appunto del comune di Villorba dove c'è una situazione diciamo così difficile per i residenti non lo so io se un centro di un paese debba rimanere in queste condizioni qua mi sembra una situazione da terzo mondo Arredo urbano ma soprattutto viabilità Catena di Villorba malgrado la tangenziale nord voluta dall'allora sindaco Liviana Scattolone a lei intitolata non ha eliminato il traffico di passaggio dal centro della frazione 19.000 mediamente i passaggi diurni prima della tangenziale 15.000 circa oggi via i camion ma non le auto che sprecciano a una media di 70 all'ora dove si dovrebbe rispettare il limite dei 40 la variante nord ha risolto soltanto parzialmente il problema perché ancora una parte consistente del traffico transita per il centro di Catena quello che vogliamo fare noi è coinvolgere i cittadini a livello progettuale per discutere con l'amministrazione e trovare le soluzioni più idonee e dal costo più accessibile da qui la mobilitazione dei residenti della frazione abbiamo organizzato questo incontro pubblico proprio per mettere l'amministrazione nella condizione di relazionarsi direttamente con il cittadino e trovare soluzioni concrete io vivo in via Postioma da sempre ed è un annoso problema senza soluzione fino ad ora ci sono dei palliativi, dissuasori sensi unici, inutili perché non vengono rispettati basterebbe mettere delle fioriere un semaforo pedonale altri marchigeni che costano poco e quindi le macchine sarebbero scoraggiate a passare da questa parte qua semafori addirittura rotatorie dicono per rallentare il traffico e una soluzione va trovata anche per la piccola via Talpon chi dal Palaverde deve dirigersi a sinistra verso Castelfranco è costretto a imboccarla intasandola insomma oggi come ieri il traffico soffoca a Catena è più importante rimuovere le situazioni di pericolo come qua a Catena o è più importante l'arredo urbano in qualche altra frazione la quale ormai vanno ad asfaltare anche le capezzagne perché non lo so se si può di più questa qua io vorrei parlare guardare bene negli occhi il sindaco e adesso sentiremo ovviamente la risposta del sindaco l'ultima notizia ci porta invece a Conegliano dove il sindaco Floriano Zambon ha pensato bene come dire di difendere i suoi messi comunali quindi occhio ai messi comunali fra pochi giorni saranno armati di sparare il peperoncino per difendersi da intimidazioni aggressioni e molesti di ogni genere anche consegnare atti tribunali infatti sta diventando un pericolo per i messi comunali perché i cittadini ovviamente esasperati dalle tasse a volte reagiscono con chi pur non avendo diciamo così responsabilità è costretto a consegnare appunto le varie comunicazioni per questo il comune di Conegliano tra le modifiche del regolamento del vestiario in dotazione ai dipendenti ai messi comunali è inserito anche una nuova indicazione tra l'altro suggerita dai messi comunali Conegliano sono due donne Rosetta D'Alozio e Anna Furlanetto che hanno detto se ci date lo spray ci sentiamo più sicure e con lo spray e il peperoncino si concludono anche le prime notizie dalla marca l'appuntamento questa sera 19.15 mi raccomando non mancate intanto un buon pomeriggio a tutti e la linea attorno allo studio centrale e la linea attorno